Giovedì 22 aprile alle ore 14 prenderanno il via le attività del centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli. È sito presso la palestra Francesco Scarpa, sede della Croce Rossa Comitato di Agropoli e Cilento. L'accesso alla struttura puntualmente adeguata, secondo le direttive dell'ASL Salerno da parte dell'utenza, avverrà da Via Taverne, il cancello del parco pubblico Liborio Bonifacio. A servizio della stessa vi è l'ampio parcheggio di piazza Mediterraneo, adiacente il Cineteatro De Filippo. Il centro sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14 alle ore 20. L'organizzazione è a cura dell'ASL Salerno. In loco a fornire ausilio all'utenza, così come accade da ormai diverse settimane presso il presidio ospedaliero di Agropoli, ci saranno i volontari del gruppo comunale di protezione civile, oltre ai volontari della Croce Rossa. Per essere sottoposti alla vaccinazione nel rispetto dei criteri di età e condizione di salute dettati a livello sovracomunale, occorrerà preventivamente essersi registrati sull'apposito portale della Regione Campania. L'obiettivo del centro è accelerare quanto più possibile il numero di somministrazioni compatibilmente con le disponibilità di dosi.